25 9 chili alla mensa prima di mangiare tiro fuori dal seno una catenina con un pendolo che sospendo sul cibo che devo mangiare se il pendolo si muove parecchio quel cibo non va bene per me e non lo mangio se invece rimane immobile lo mangio così sono dimagrita di 9 chili commento questo può avvenire perché nella realtà non c'è distinzione tra chi sta per mangiare il pendolo e il cibo perché tutto è uno